come on l'abbiamo Grazie a tutti! Soltando l'amato 1, 2, 1 Calla l'amato Soltando l'amato Calla l'amato Soltando l'amato Calla l'amato E con l'amato Bacca bacca Soltando l'amato Calla l'amato Venga pa' qui, come pa' qui Soltando la l'amato Ako? Jemré, na may o pauzen ka ba? Wie pero kaya iiwane Indie! Sabi n'ya, jump open D'yong bagja at 8-8 Chasat paghiy dami sinayaw Kaya kaya hindi pa hi-dance natin niya, eh Pero matindi 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 Pero siyempre sabi niya kanina Sì! 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 Laat ng mayunit na Rater FBI, Rater carb. Sulay din ko lang po, Rater FBI tsaka carb dito po sa harap ng game sa hot by some two steps. O, palak-pangan kay Makto! Sì! Sì! 23! 23 23 22 23 Parang parang kay Paolo Conti 12 Alì? Pahuling natin, non è molto male. Dito qua. Dito qua. Pops, pasuyo po, Raider FI, Raider card dito po. Ulitin ko lang po, Raider FI. 70 Red o blue? il video o no qui c'è una picture e allora la scint cover picture ora abbiamo un camera qui 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 un modello si Grazie a tutti.